cari amici di war room books si fa presto a dire tu sei ideologico quante volte vi è capitato nelle conversazioni di rinfacciarlo al nostro avversario e la realtà che siamo tutti ideologici almeno secondo quanto ci spiega un libro molto molto interessante che voglio presentarvi oggi l'intera storia del pensiero occidentale da platone in poi da quando il dualismo platonico divide l'essere dal dover essere è storia dell'ideologia l'ideologia come bolla metafisica e ontoteologica ignoseologica cioè legata all'essenza e alla conoscenza e pratica linguistica in cui l'umanità occidentale noi tutti stessi viviamo e c'è la funzione spiega questo libro di raddoppiamento del mondo la coazione a pensare che esista una realtà essenziale ideale da scoprire nella teoria e da implementare poi praticamente attraverso il declassamento dell'esistente ad apparenza oppure a natura in forme da formare con l'obiettivo di disciplinare razionalizzare purificare governare se stessi e gli altri insomma è una forza polemica l'ideologia che è un po' il carburante del nostro pensiero e ha a che fare con la nostra cultura con il nostro modo di ragionare ce lo racconta appunto il libro ideologia edito dal mulino ed in libreria in questi giorni lo ha scritto un grande del pensiero contemporaneo Carlo Galli eh eh docente delle dottrine politiche all'università di Bologna eh autori di tantissimi saggi che ringraziamo di essere qui a Warren Books buongiorno professore buongiorno a lei molto gentile. E allora questa ideologia che cos'è? Tutto ideologia? Sì eh lo ha detto molto bene devo dire lei eh non si non si esce particolarmente quando si parla di politica l'ideologia è il fatto che siamo costretti a ragionare a partire da un punto di vista che è il nostro inevitabilmente e questo è il primo punto. Il secondo punto è l'ideologia è il fatto che siamo costretti veramente costretti a ragionare come ci ha appena spiegato eh distinguendo l'apparenza dall'essenza e eh pensando che sia necessario eh che eh la nostra idea essenziale eh venga resa reale e dunque l'apparenza venga cacciata eh e ancora ideologia è sempre polemica l'ha detto benissimo cioè il fatto che questo mondo sia fatto di apparenze ehm cioè di qualche cosa che è meno che vero meno che vero ehm è molto spesso colpa di qualcuno ecco eh è colpa di qualcuno e e questo qualcuno dobbiamo di questo qualcuno o di questo eh particolare struttura della società nella quale viviamo questa colpa va individuata e va rimossa eh naturalmente ci sono gradi diversi di intensità in questo modo di ragionare ma eh nel senso che la colpa eh non sempre è punita con la morte eh la colpa è eh è appunto eh il discrimine con cui possiamo distinguere fra ideologie totalitarie e ideologie invece compatibili con una democrazia certamente certamente eh la l'ideologia è il modo con cui si pensa alla politica ehm la cosa interessante è che invece ecco su questo magari possiamo ragionare invece da un bel po' di anni ehm noi anche nel discorso comune eh del resto l'ho appena detto ehm la parola ideologia viene adoperata eh come qualche cosa di eh con un epiteto dispregiativo eh come se fosse possibile ragionare in termini di verità oggettività eh naturalità da una parte e dall'altra da una parte che è la nostra e dall'altra ci fosse invece ideologia cioè noi abbiamo invece di riconoscere la ideologicità inevitabile del nostro pensare politico e del nostro agire politico la proiettiamo sull'avversario la proiettiamo sull'avversario la proiettiamo sull'avversario la proiettiamo solo sui nostri nemici però stiamo un attimo se mi concede alle ideologie tra storiche quelle del diciamo dell'ottocento e del novecento no? Eh il comunismo sovietico lei dice eh era eh totalitario ed era un'ideologia totalitaria perché ehm si proponeva eh la la regolazione di tutti gli aspetti della vita eh del eh degli individui e delle società proprio di recente presentando il libro eh del professor Pasquino una collettanea che che è curata dal professor Pasquino intitolata fascismo la mi pare la settimana scorsa eh coglievo leggendolo questa distinzione che lui fa tra totalitarismi e autoritarismi ascrivendo il comunismo e il nazismo ai primi cioè i totalitarismi e invece sostenendo che il il fascismo è una sorta di ideologia della prassi che non ha una vera ideologia ma è una mentalità così la chiama ed è tipico dei sistemi autoritari che non condizionano non intermediano tutti i processi della società tant'è vero che quando cessano di esistere è possibile far ripartire la società da dove si era lasciata mentre i sistemi totalitari frantumano tutto ciò che si trovano davanti a sé. Lei si riconosce in questa distinzione oppure no? Sì io vi riconosco eh è una distinzione che nasce con un politologo eh americano che si chiama Linz ehm che eh è corretta è sostanzialmente corretta ehm bisogna dire questo che gli storici io non sono uno storico il professor Pasquino è un politologo io sono un filosofo gli storici invece sul fascismo oggi eh tendono a definirlo anch'esso il fascismo come totalitario eh perché perché diciamo così il fascismo è stato un totalitarismo mancato un totalitarismo differito a un certo punto della sua evoluzione poniamo negli anni trenta dalla metà degli anni trenta in poi effettivamente mh la volontà del fascismo era eh di eh mettere in piedi un totalitarismo cioè di eh come ha detto lei di eh regolare la totalità dell'esperienza dell'individuo ma anche la totalità dell'individuo ehm diciamo che non c'è riuscito ecco è un totalitarismo fallito velleitario ehm quanto poi per quanto poi riguarda la eh la cultura o meglio l'ideologia del fascismo allora l'ideologia del comunismo è abbastanza chiara anche se eh diciamo eh lo stalinismo è effettivamente una deformazione del marxismo comunque sia quelli dicevano noi siamo marxisti e leninisti è difficile dire che non lo erano ecco davano una certa interpretazione di questo ma lo erano il nazismo era parecchie cose ma certamente anche lì c'era un punto irrinunciabile altrimenti non eri nazista e il punto è il rassismo biologico eh e e questo è vero in Italia non c'era niente del genere tranne la eh la fede e l'obbedienza nella persona del duce ecco eh come poi eh emergeva eh nelle scuole di mistica fascista eh nelle quali si insegnava che dopotutto l'essenza del fascismo non era eh l'interpretazione idealistica della storia d'Italia come faceva Gentile eh l'essenza del fascismo non era il corporativismo eh l'essenza del fascismo non era l'arditismo l'essenza che sono tutte cose che ci stavano dentro ma ce ne stavano troppe eh l'essenza del fascismo era eh che il duce ha sempre ragione cioè il duce è eh il destino dell'Italia e qualcosa è molto molto elementare no ma professore mi viene in mente un altro pensatore che è uno storico mi perdono mi perdono solo uscito ma tante volte diciamo nella memoria eh anche alcuni storici hanno lasciato il segno François Frué che diceva i eh i grandi i grandi totalità le grandi ideologie sopravvivono al loro fallimento storico così è stato per il comunismo diceva Frué il comunismo in fondo ha fallito subito nella prassi eh già già quando si passa da Lenin a Stalin si è capito che eh che lì c'è il trucco eh però eh la 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 fascinazione del totalità della dell'ideologia comunista sopravvive oltre il tempo del suo fallimento storico il fascismo è sopravvissuto oltre il tempo del suo fallimento storico e e i segni che cogliamo oggi nel nei raduni di predappio in alcune tendenze eh tanto della classe dirigente il richiamo all'ordine eh la quanto in alcune reazioni della società civile sono eh cascami sopra che vivono ancora di vita propria di quella storia finita oppure no? Allora eh domanda complicata ma va bene eh diciamo così io sono eh contrario alla tesi del fascismo eterno eh che semmai eh semmai la tesi va va rovesciata cioè semmai si deve dire che il fascismo è una delle purtroppo numerosissime eh manifestazioni di alcune tendenze dell'animo umano e della nostra capacità di eh nuocere e della nostra volontà di potenza eh che di solito significa che eh ci abbiamo bisogno di qualche subalterno eh da comandare se vogliamo dire così non diciamo una cosa particolarmente eh importante però io questa l'accetto non accetto la tesi del fascismo eterno poi per quanto riguarda la la storia d'Italia dopo il 1945 bisogna un po' distinguere perché eh diciamo che fino agli anni sessanta eh il neofascismo aveva aveva un impianto ma anche per motivi biografici cioè per le persone che ne facevano parte i meno giovani naturalmente insomma aveva un impianto eh di forte collegamento teorico non non pratico perché erano erano fuori dal potere ma insomma di forte collegamento teorico con l'esperienza storica del fascismo anche se il movimento sociale aveva come motto eh di ehm non rinnegare ma eh di non restaurare perché eh insomma se avessero potuto forse un po' di restaurazione fascista l'avrebbero fatto. Oggi oggi invece quello quell'immaginario ecco quell'immaginario è io credo l'oggetto di proiezioni eh rivendicazioni eh che eh hanno molto a che fare con disagi personali più che con fenomeni politici che non dimentichiamo il fascismo è stato un fenomeno politico anche se molti dei fascisti della prima ora erano eh degli squilibrati o degli esagitati non tutti peraltro ehm c'era un fenomeno politico e una abbastanza chiara o comunque una volontà di instaurare un ordinamento costituzionale istituzionale nuovo che si è una volontà che si è chiarita nel tempo ma che insomma già nel 1925 è è chiaro nasce la dittatura e adesso quello che noi chiamiamo neofascismo è un insieme di eh ma pulsioni neurotiche eh che non hanno eh una consistenza politica reale fanno parte di un diffuso disagio e lo stesso si dica per quanto riguarda le eh tentativi di imitazione imitazione del nazismo che diventano cose da da stadio da curva a sud insomma eh altra cosa e qui lei ha ragione lei sta citando una una frase celebre di Norberto Bobbio quando dice sì eh rallegratevi che il comunismo è caduto ma le i bisogni a cui rispondeva ci sono ancora ecco ehm beh questo è assolutamente vero i bisogni a cui tentò di rispondere sulla base di una certa analisi della società e della dell'economia ci sono ancora e come che ci sono ancora le condizioni storiche sono tanto diverse però che non nasce nulla di simile eh per mille motivi ecco perché andiamo alle filosofie diciamo dei giorni nostri ma mi intriga molto quello che ha detto a proposito eh di questa tendenza un po' patologica no di resuscitare che è il il passato che è anche una metodologicamente corrisponde a a una frattura del sapere per cui un sapere fai da te stacca pezzi di storie e li rimonta dentro un puzzle no eh soggettivo questa un po' a che fare con un fenomeno che lei nel libro individua molto bene il fenomeno del complottismo che le le spiega veramente con parole chiarissime il complottismo lei dice è un tentativo di rispondere al alla alla confusione delle società contemporanee tra il vero e il falso è un tentativo di recuperare il vero dentro le rappresentazioni eh collettive e però produce ancora più falso di quanto vorrebbe evitare è una specie di eterogenesi dei fini che il complottismo realizza in questo tentativo è così è così eh il punto è questo che eh la grande differenza fra le ideologie chiamiamole storiche classiche no e l'oggi eh il punto di il punto di rottura è sostanzialmente gli anni setta gli anni ottanta ecco la grande differenza è che le ideologie classiche eh erano del erano una forma di pensiero politico che aveva bisogno e lo trovava eh di un partito cioè di un sistema organizzativo di massa o comunque di un'idea erano idee politiche che presupponevano il fatto che la politica non fosse una questione soltanto individuale ma fosse come è evidente una questione collettiva cioè la la politica ha senso nelle misure in cui c'è uno spazio pubblico e in questo spazio pubblico si muovono dei soggetti che non sono soggetti individuali ma sono soggetti collettivi quando arriva la la grande rivoluzione l'ultima grande rivoluzione del ventesimo secolo cioè il neoliberismo che è una cosa che arriva negli anni ottanta sostanzialmente ehm succede che la il primo il il neoliberismo è eh una eh è ha a che fare con il con il marginalismo austriaco cioè è una tesi economica che poi diventa una tesi sociale per cui eh l'essenza tanto per cambiare della società è l'individuo e tutti i fenomeni sociali sono riconducibili a fenomeni di scelta individuale eh da parte di individui eh razionali che perseguono razionalmente il proprio utile allora quando arriva questa ideologia eh vince vince e convince ehm convince fa appello alle risorse esistenziali di ciascuno alla piccola volontà di potenza che abita in ciascuno eh dice la prima cosa che il neoliberismo dice è l'essenza della società non sta nello Stato non sta nei partiti non sta nei sindacati sta nella tua individualità nella tua capacità di competere nella tua capacità di vincere allora tutto ciò è stato particolarmente esaltante per le masse occidentali certamente certamente ehm e eh anche quando il neoliberismo ha cominciato a incepparsi e a produrre più povertà che ricchezza e a produrre più paura e angoscia che euforia è rimasto ecco noi ci anche oggi nel momento in cui le grandi narrazioni neoliberiste sono sfidate da una serie di catastrofi che si sono susseguite in questo non felice ventunesimo secolo anche oggi la la il materiale di base del pensiero politico e della percezione che la società ha di sé è l'individualismo per cui anche l'idea che eh io soffro sto male perché eh la società non mi dà quello di cui ho bisogno è un'idea che resta in me e io mi sfogo attraverso comportamenti eh aggressivi che possono essere eh scrive usare i social per odiare per insultare mi sfogo attraverso comportamenti eh paranoidi e divento un complottista cioè cerco di dare un ordine al al caos dentro il quale vivo un ordine dal quale io finalmente capisca chi è che mi sta facendo tanto male ecco e naturalmente è evidente è evidente che eh questo meccanismo psicologico è eh produce mostri ma sono sono mostri come dire mentali ecco ma nessuno di questi fenomeni che hanno tutti divento populista divento sovranista faccio il diavolo a quattro ma sempre sostanzialmente da solo da solo perché oggi non si pensa più alla politica come a un'esperienza collettiva e e questa è la vittoria postuma del neoliberismo se vogliamo cioè di questo non ci si libera più sarebbe come se agli inizi del novecento o qualche decennio prima alla fine dell'ottocento quando quando nacquero i partiti socialisti no dalle legge operaie nacquero i partiti socialisti ehm se allora avessimo ragionato così gli operai invece di unirsi fra di loro sarebbero rimasti a casa propria a lamentarsi a odiare a incattivirsi ma mai a mettersi insieme per fare politica ecco noi oggi siamo in una fase di questo tipo questa è una vittoria postuma del neoliberismo eh che eh grava su di noi eh grava su di noi perché la grande difficoltà di operare cambiamenti sociopolitici nasce dal fatto che non si formano soggetti politici collettivi dei quali le ideologie hanno bisogno di ideologie sono sono un'arma in mano a un soggetto politico collettivo non un soggetto politico individuale questo è questo mi faccia fare un po' l'avvocato del diavolo perché lei ehm eh fa una critica radicale del neoliberismo e quindi anche della globalizzazione ancora che lei non non cita la globalizzazione ma posso immaginare che sia parte di questo processo cita anche la stagione l'illusione eh che è un po' quella che che Bobbio voleva in qualche modo scongiurare l'illusione che dopo la caduta del muro eh l'universalismo della democrazia del capitalismo si imponesse come valore collettivo universale e trionfasse un'età di pace quella che Fukuyama chiamava la fine della storia poi abbiamo visto e lei lo scrive anche in questo libro che eh la storia eh arretra eh non non avanza solo anzi abbiamo avuto le guerre abbiamo avuto le epidemie abbiamo avuto le crisi finanziarie eh l'impoverimento del del ceto medio eh ancorché eh sempre come processo indotto dalla globalizzazione anche la riduzione della povertà me lo faccia dire ma soprattutto eh però ehm se la democrazia arretra e arretra anche secondo i censimenti degli ultimi anni in molti in molte aree del mondo però poi ti accorgi che ci sono eh cittadini afghani che si aggrappano ai carrelli dell'aereo in partenza verso l'occidente eh sperando eh inseguendo una libertà quasi impossibile sapendo di rischiare e di andare verso la morte ci sono quaranta milioni di ucraini che imbracciano i fuscili inseguendo quella libertà diffusiva che il modello europeo ha trasmesso allora io mi chiedo e le chiedo ma non sarà che la storia e la civiltà hanno un cammino dissonante per cui alcuni valori universali della della democrazia occidentale non voglio dire del neoliberismo ma della democrazia occidentale come la libertà brillano ovunque sempre di più nel mondo ancora più poi invece la storia li nega e noi stessi facciamo fatica a riconoscerli sì io in realtà della globalizzazione parlo proprio perché è un fenomeno troppo importante ed è proprio come ha detto lei il problema cioè la globalizzazione è stata creduta la una panacea la fine della storia la fine dei problemi quello che Marx da giovane chiamava il risolto enigma della storia non è vero niente la globalizzazione è un processo economico è un processo in cui le i centri di potere politico mondiale hanno continuato ad esistere non si sono sciolti nell'economia hanno ben continuato ad esistere il primo di essi il più potente è stato Washington nulla capitava nella globalizzazione senza il Washington consensus ma poi ma poi dentro la globalizzazione è ben venuto fuori cresciuto e si è solidificato un altro centro di potere politico economico la Cina che insomma è piuttosto difficile pensare si dissolva nel commercio mondiale nelle catene del valore mondiale no ma sì ma lei l'ha detta l'ha detta bene cioè noi in occidente possiamo produrre ma questo lo facciamo sempre tutta la modernità è fatta così cioè produzione di un'ideologia universale che è negata dal fatto che in politica di universale non è possibile fare nulla perché la politica ha a che fare con la pluralità delle esistenze la pluralità dei centri di potere e con la differenza dei rapporti di potere che non si riescono ad eliminare e col coagularsi di queste differenze intorno a soggetti che possono essere le classi le nazioni gli imperi ma insomma la politica è un panorama di differenze e poi certamente in questo questo panorama di differenze è pensato da noi occidentali all'interno di un paradigma universale che noi siamo i primi a smentire naturalmente è certo che bisogna togliere il legame fra neoliberismo e democrazia sarà molto importante è un è un è un obiettivo fondamentale per ogni democratico che la democrazia non segua le sorti del neoliberismo come non segua le sorti del vetero liberismo la democrazia deve essere deve avere come obiettivo la la produzione della libertà dei singoli e della società e la possibilità di esplicarsi dei conflitti che sono fisiologici e che quando si esplicano non sono distruttivi questo deve e può avvenire in determinati contesti economici ma il contesto economico e questo facciamo fatica metterci in testa il contesto economico non è l'obiettivo fondamentale della democrazia non lo è la democrazia non è stata messa al mondo perché vi trionfasse una forma economica pensiamo alle democrazie popolari nelle quali che pensavano di essere state messe al mondo perché vi trionfasse il modello economico dell'economia di comando che ha ammazzato la democrazia popolare allora il modello economico del neoliberismo ha fatto molti danni alla democrazia certo perché ne ha potenziato le contraddizioni interne e certamente il neoliberismo ha portato fuori dalla povertà un bel po di milioni di persone nel mondo ma certamente però ne ha cacciate in povertà altre tante ha portato fuori lei giustamente e poi fa un'analisi di quello che se vogliamo il post neoliberismo no nel senso che oggi poi noi come effetto di questo fenomeno ci troviamo a fronteggiare delle micro ideologie che lei con icastica scrittura dipinge con una perfezione eh esemplare per esempio eh mi piace moltissimo la definizione che lei dà del populismo dice il populismo è un giacobinismo senza illuminismo non ha retroterra intellettuale non aspira a plasmare l'umanità esprime una reazione tanto viscerale quanto incerta nella sua direzione infatti rifiuta la distinzione topologica tra destra e sinistra e ondeggia tra l'una e l'altra senza coerenza insomma eh è una forma di rivendicazione della scissione fra sapere e potere anche no in qualche modo perché eh è il potere che eh non riconosce altra fonte di legittimazione se non se stesso che poi una dimensione quantitativa della numerica del consenso è così? È così il populismo è un insieme di individui che non fa collettività è un insieme di individui ciascuno animato da più o meno legittime pulsioni aggressiva nei confronti della società e della politica che ehm non vuole cioè non riesce come dicevamo prima non riesce a pensare in termini collettivi io mi ricordo la la verità del populismo è stata espressa in una frase che per me eh è celebre mi è rimasta impressa in una frase di Beppe Grillo che alla fine di tutto in un discorso insomma più o meno confuso disse insomma la politica è facile e dunque tutte le tutte le complicazioni della politica sono come il latinorum contro cui protestava varenza nei promessi sposi cioè sono invenzioni no la politica è facile beh insomma è una vita che la studio sarò poco intelligente io però sto facendo faccio un po' di fatica a dire che la politica è facile ecco è dannatamente complessa la politica e ci andiamo a sbattere sempre contro la complessità c'è un'altra invece filiazione il politicamente corretto eh lei dice che giunge proprio eh attraverso il simbolico l'emotività la virata soggettivistica delle micro ideologie a cui dà vita anche a livelli radicali di critica a toccare fagli e strutturali di dominio andando al di là del multiculturalismo cioè la teoria della parità fra le culture della loro reciproca riconoscibilità avanza polemicamente una pretesa di giustizia di inclusione e ingaggia una lotta contro un passato che ha gerarchizzato dominato escluso è una legazione della storia anche questa no è una legazione eh del del fatto che i processi si danno nella storia che la storia sia possibile rimontarla dentro un panteon soggettivo in cui il tempo e lo spazio sono variabili molto dipendenti dalle preferenze di ciascuno lei ha ragione allora eh anche qui io vorrei distinguere ehm effettivamente alcune alcune forme di politicamente corretto derivano da eh dal fatto che nella seconda metà del ventesimo secolo circa eh sono state individuate linee di contraddizione interna della società che prima non venivano individuate viene stato individuato come dire il peso politico faccio un esempio no noi diciamo che nel corso dell'ottocento la differenza tra ricchi e poveri che c'è sempre stata nella storia è diventata una differenza politica no perché ricchi voleva dire capitalisti detentori eh privati dei mezzi di produzione poveri voleva dire tendenzialmente proletari e dunque da questa distinzione nasceva l'idea che i poveri erano prodotto dei ricchi cioè non erano nati poveri per volontà divina e potevano rovesciare questa cioè è la politicizzazione di una differenza nella seconda metà del ventesimo secolo sono state politicizzate altre almeno altre due differenze le differenze di colore questo tocca molto negli stati uniti meno noi europei e l'altra differenza di genere uomo donna che effettivamente è stata nel corso della storia una frontiera su cui si è giocata una partita di potere fra uomini e donne la scoperta di tutti sanno che l'uomo e le donne sono differenti ma la scoperta del significato politico della differenza di potere fra uomo e donna è il femminismo ecco allora ricostruire la storia come storia della oppressione di classe dei ricchi sul poveri come storia dell'oppressione razziale del bianco sul nero come storia dell'oppressione maschile del maschio patriarcale del maschio sulla femmina ciò è possibile naturalmente con è possibile fare ciò e al tempo stesso continuare ad avere una prospettiva storica per cui come non si chiede a giulio cesare di andare in motocicletta così non si chiede a adanti alighieri di essere politicamente corretto e di pensare che ma un metodo potuto una figura rispettabile che questo lo pensiamo noi lui non lo poteva pensare eccetera allora per cui la scoperta di linee di faglia politiche dentro la nostra storia per me è un progresso scientifico naturalmente come sempre si può ridurre tutto ciò a caricatura paranoide e allora ottiene dei risultati estremi della cancel culture cioè siccome Shakespeare crede che un nero valga meno di un bianco non leggiamo più Shakespeare ecco e questo è assurdo e facciamo uscire dal canone occidentale Omero perché perché Omero è impresentabile politicamente no ci sono gli schiavi le donne non contano niente eccetera eccetera per cui via allora e questa è una caricatura per cui come sempre si tratta di capire che è necessario per comprendere il nostro mondo difficilissimo altro che facile è necessario sapere molte cose saperle intrecciare essere al tempo stesso radicali e capaci di mediazione insomma leggere qualche libro e avere voglia di pensare col che non smettiamo di fare ideologia non smetteremo mai però facciamo ideologie come dire un po più articolante e quindi c'è ideologia ideologia diciamo e l'ultima è perché qualcuno poi leggendo o meglio ascoltando il modo in cui ho raccontato il suo libro potrebbe pensare che in fondo tutte le vecchie sono nere così non è niente però lei delinea il diciamo il contenitore e la metodologia del pensiero occidentale che è un po quello che che se vogliamo faceva anche Emanuele Severino non so se le premesse sono le stesse eh però però tutto da Platone parte eh voglio dire senza il dualismo senza il dualismo di Platone questo forse non ce lo sta non ce lo saremmo a dire ma voglio arrivare all'ultimo perché siamo alla fine della nostra piacevolissima conversazione e non voglio rinunciare ad analizzare l'ultima filiazione di questo di quello che lei considera la stagione neoliberista cioè il sovranismo l'unica a cui lei riconosce in qualche modo veramente la dignità di un'ideologia forse per il suo tratto contrappositivo perché è a una forza polemica di contrastare no eh la prospettiva neoliberale lei dice che nella declinazione eh di destra questo neo sovranismo propugna nella difesa di un'identità nazionale potenzialmente semi liberale xenofoba in una riedizione culturalmente impoverita del nazionalismo di cui ai tratti autoritari benché la nazione sia qui non tanto un complesso storico quanto un insieme di individui di famiglie animati dal risentimento e dalla ricerca di sicurezza. C'è in questa in questo quadretto un po' la rappresentazione anche del presente italiano e e del governo e della maggioranza che eh è approdata a Palazzo Chigi con il voto degli italiani? Certo che sì certo che sì perché questo libro è stato l'ho finito in agosto per cui insomma qualche cosa ormai si capiva. e certamente è la cosa che somiglia di più a un'ideologia perché perché è stata fatta e la destra è brava a fare queste cose è stata fatta un'operazione di eh semplificazione e di eh costruzione cioè la la destra ha preso eh una società veramente in crisi come la nostra una società che sta soffrendo una società che in cui il legame sociale non c'è perché ciascuno deve pensare a portare a eh a casa il pasto a mettere insieme il pranzo con la cena e perché ci hanno insegnato che mh esiste solo il soggetto competitivo al massimo la famiglia ecco ma non si va oltre questo fin dai tempi dell'attaccia ha messo insieme alla destra un un coacervo di di persone portatrici di veri problemi non 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 di sciocchezze portatrici di veri problemi e gli ha offerto un contenitore collettivo e questo è il passo che la sinistra non ha fatto un contenitore collettivo che è l'idea di nazione dentro la quale come dicevo non ci sono processi storici ci sono esattamente nella loro forma immediata tutti quegli individui però almeno un'idea collettiva ce l'hanno e hanno capito qualche cosa che esiste una entità chiamata Italia chiamata nazione di cui loro fanno parte e che ci sono dei nemici della nazione che sono in parte causa dei nostri problemi beh complimenti complimenti questo è un modo di fare politica al quale non è stato risposto in modo adebuato con un altro contenitore se vogliamo e con altre spiegazioni con altre narrazioni ecco poi ancora meglio sarebbe se invece di fornire soltanto contenitori riuscissimo anche a costruire i soggetti politici collettivi senza i quali non si va al di là del disagio e della narrazione del disagio la vince chi è più bravo a narrare il disagio quanto poi al fatto che il sovranismo si vada oltre il neoliberismo questo è quello che credono molti di quelli che l'hanno votato ma in realtà il il ceto politico e il pensiero economico del ceto politico sovranista è un pensiero economico pensando che lì avrebbero trovato protezione e sicurezza rispetto a disagi che hanno un'origine economica chiarissima e ho l'impressione che quella protezione quella sicurezza non li troveranno io non sono contentissimo di quello che lei sta dicendo ma questo meriterebbe un'altra trasmissione però invece voglio chiederle un'altra cosa che mi stimola di più perché è chiaro che lei scrive il sovranismo dentro l'ideologia l'ideologia occidentale no eh eh anche se è in contrapposizione con evidentemente alcuni aspetti della dell'ideologia occidentale e dice nel finale una una un passaggio su cui vorrei però che mi chiarisse un punto lei dice la guerra in Ucraina è stata un forte catalizzatore di questo processo e ha offerto l'occasione di rilanciare la polemica contro le democrature cioè le democrazie autoritarie esplicitamente i liberali dell'est e contro il sovranismo autocratico e imperiale della Russia a cui si oppone l'ideologia occidentale nella quale lei scrive ancora gioca un ruolo crescente la paura del nemico orientale russo ma anche cinese che vorrebbe riprodurre lo scontro tra democrazia e totalitarismo dei tempi della guerra fredda benché l'avversario non sia più un'ideologia comunista universalistica ma il suo contrario cioè un imperialismo nazionalistico autoritario è vero forse le categorie con cui diciamo si rappresenta questo confronto sono le categorie del novecento però non è che la democrazia non ce l'abbia poi questo confronto c'è o lo chiamiamo imperialismo nazionalisto nazionalistico autoritario o lo immaginiamo come l'unione sovietica putin è sempre uno che butta le bombe sui civili e determina diciamo stragi ecco in che modo ancorché raccontata diversamente la democrazia dovrebbe diciamo distinguere e rapportarsi a queste entità non c'è altro modo è chiaro che quando scrivo quello che lei ha letto non sto dicendo che non c'è differenza fra la differenza c'è ed è una differenza che putin ha trasformato in inimicizia reale per cui non c'è è semplicemente io mi sono limitato da storico del pensiero a notare che con la guerra in ucraina e si è rilanciata la categoria di occidente opposto a un nemico orientale che è la vecchia storia della guerra fredda ma allora allora quel nemico orientale era difficile chiamarlo orientale perché l'orientale solo come dire occasionalmente ma pretendeva di essere universale tant'è vero che il vero problema delle democrazie allora era sì certo fare resistere davanti a fare containment certo ma questo era il problema facile il problema difficile era trovare i nemici interni quelli che erano stati convinti dall'universalismo a diventare qualche modo vicini ideologicamente al nemico ecco mentre invece oggi trovo molto complicato pensare che i cinesi che sono il vero problema abbiano dei filo cinesi fra di noi perché per motivi ideologici poi per motivi economici un'altra storia perché non vogliono nemmeno cioè non ci provano nemmeno loro a fare propaganda ideologica nel mondo questa è la vera differenza mi sento molto soddisfatto dalla sua spiegazione e mi convinco ancora di più che leggere questo libro è stato per me una straordinaria forma di manutenzione di messa in discussione del pensiero e che questa è la funzione intellettuale della cultura e dei libri come il suo che ci aiutano a discutere e soprattutto a mettere in discussione alcune certezze quindi comprate e leggete cari amici di war room books ideologia eh edito dal mulino e in libreria in questi giorni e io ringrazio il professor carlo galli che ci ha regalato 43 minuti di straordinaria intensa dialettica professore grazie ancora grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori è stata davvero una bella discussione la ringrazio di nuovo grazie e saluto tutti i nostri amici di war room books noi ci rivediamo venerdì prossimo per un'altra proposta grazie a tutti i nostri amici di une